amici di motosport.com ciao a tutti siamo stati travolti dalle presentazioni delle monoposto di formula 1 abbiamo dato uno sguardo a quella che la stagione che sta per entrare con il mondiale 2024 però non ci siamo affatto dimenticati che esiste un altro campionato molto interessante ed quello del WEC mondiale di durata e per parlarne ovviamente ci voleva il nostro guru l'ingegnere andrea adamo che saluto ciao andrea buongiorno sono diventato un guru va bene non va bene no no guru della tecnica molto seguito e apprezzato allora andrea quale tema andiamo a toccare perché sta arrivando un nuovo BOP e questo lo analizzeremo prossimamente su questi schermi che argomento andiamo a svescerare ma allora senza voler fare il professorone che è lungi da me mi sono imbattuto ultimamente per un po di altre cose che faccio nell'analisi di quello che parlando in inglese che mi dà fastidio però il break by wire che è un parolone tanti l'hanno ascoltato nelle menzioni magari delle telecronache eccetera eccetera ma credo che sia simpatico e bello condividere con voi ed è stato utile anche un approfondimento per me perché ammetto che nella mia esperienza lavorativa questo sistema non ho avuto mai agio di installarlo in alcun veicolo e quindi grazie vorrei ringraziare i colleghi della brembo ho avuto la possibilità di approfondirne il funzionamento cercare di capirlo un po meglio e quindi ringrazio franco ringrazio chi mi permette di essere qua perché è stato anche bello per cominciamo a rispondere a prima domanda che cos'è il break by wire andrea così introduciamo l'argomento in un modo che sia comprensibile per tutti mi per arrivare a che cos'è il break by wire mi permetto di dire questo la frenata è una di quegli aspetti nella progettazione nella messa a punto di un veicolo di cui si parla meno ma la più complicata che vi è secondo me uno degli argomenti molto complicati la gestione eccetera eccetera che cos'è la frenata fondamentalmente non è nient'altro che una trasformazione dell'energia cinetica l'energia cinetica l'energia che al veicolo ha lanciato la sua massima velocità in calore perché perché si cerca di rallentare il veicolo e questa energia che come abbiamo imparato che ha fatto qualche scuola un po' più alta ma tutti l'abbiamo sentito non si crea non si trasforma e quindi noi trasformiamo l'energia cinetica del veicolo lanciato alla massima velocità o alla sua velocità in calore e questo calore è generato dall'attrito che le pastiglie freno schiacciate a contatto con il disco freno mi permettono so che ci sono i tambui così ma possiamo parlare di corse in questo momento siamo nelle corse Andrea non torniamo alla preistoria va bene scusate qui passiamo delle mezze giornate no 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 quindi del disco freno e e quindi questa pressione generata dal pilota che schiaccia il pedale freno comprime e andiamo a vedere delle pompe freno che muovono del liquido idraulico specifico quindi resistente al calore eccetera eccetera e crea questo attrito noi tutto questo lo abbiamo visto negli anni e per noi è sempre stato normale che questo processo avvenisse con l'evoluzione quindi noi abbiamo visto nelle corse lo studio dei sistemi di raffreddamento dimensionamento siamo passati i dischi in carbonio grazie alla leggerezza che ne comportano abbiamo visto tutta una serie di evoluzioni ma il concetto di base è sempre stato quello di una trasformazione di energia in calore oibo siamo arrivati a un certo punto nella storia dell'autoveicolo a scoprire riscoprire il concetto di elettricità di motori elettrici e li abbiamo sempre visti sempre raccontati e probabilmente anche per una semplicità e di ragionamento come un ausilio al motore termico se non una sua sostituzione in alcuni momenti uscita dai pit eccetera eccetera per muovere il veicolo ma non dobbiamo dimenticarci che all'interno della gestione del veicolo stesso durante la competizione in realtà il motore o i motori ricordiamoci che in alcuni veicoli lmpa ipercar eccetera eccetera ne abbiamo due due di più comunque asse anteriore asse posteriore che sono di ausilio a rallentare il veicolo perché perché i motori elettrici hanno il vantaggio tecnologico che possono essere usati come elementi che donano trazione al veicolo quindi sono dei motori elettrici ma durante la frenata possono diventare dei generatori elettrici e quindi hanno un ingresso di coppia non un'uscita di coppia e fa muovere il motore e questa rotazione senza voler fare un corso di elettrotecnica che io feci tanti anni fa quando avevo i capelli e quindi generano elettricità e mi ricaricano le batterie ora capite che questa è una condizione molto importante nella gestione del veicolo perché perché mi aiutano la frenata quindi il ciclo di carica della batteria durante la frenata e abbiamo tutta una serie di gestione da parte dei piloti di questo perché poi c'è anche l'aspetto costing quindi quando lasciano scorrere il veicolo e i motori vengono mossi dalle ruote e quindi si trasformano in generatori e per fare un esempio molto semplice non è né più né meno di quello che noi avevamo sui motori abbiamo sui motori adesso diciamo la semplificazione massima in quell'oggetto che è chiamato alternatore l'alternatore è un generatore di corrente elettrica quindi i motori elettrici che abbiamo sempre menzionato come dei supporti al movimento del veicolo sono dei diventano dei grossi alternatori nella fase di frenata ora se potessi condividere delle immagini perché da quando abbiamo iniziato questo questo racconto insieme ci siamo evoluti spero che adesso ho imparato a condividere dai andrea andiamo a condividere ancora qualche anno mi daranno di nuovo la laurea in ingegneria della presentazione e ho questa questa immagine partiamo dalla dalla base no allora cosa vi ho raccontato della trasforma del movimento allora questa che abbiamo è una pedaliera di una vettura le vetture WEC hanno pedaliere molto più complesse così ma partiamo dalle base no aiuta sempre questa pedaliera magia magia ha tre pedali perché perché abbiamo il pedale dell'acceleratore oggigiorno il segnale di potenza di richiesta potenza è un segnale che viene trasformato in un movimento angolare in un sensore legato al movimento del pedale e quindi fornisce potenza viene richiesta potenza abbiamo la frizione ormai in tanti casi anche in questo caso è un sistema di leva al volante quindi c'è un movimento della leva che è trasformato in un movimento angolare che manda un segnale a un attuatore e ci abbiamo lo stacco della frizione cosa che noi continuiamo ad avere anche nel sistema by wire è il sistema di frenata con le pompe freno ora io non so quanti di chi ci segue ha avuto mai la verità veramente la possibilità di capire come funziona ma il sistema è molto semplice ora questa è una pedaliera pull le altre sono push vuol semplicemente dire che il pedale schiaccia muovendosi con il movimento della richiesta di frenata del pilota comprime questo 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 asse all'interno della pompa a freno in questo caso viene tirato quindi cambia solo da dove entra dove esce l'olio al netto adesso mi uccideranno quelli della p ci cambiano altre cose quindi la gestione la precisione comunque andiamo al concetto grosso perché non è questo che dobbiamo dibattere e abbiamo che quindi l'olio che è contenuto in serbatoi che vediamo a sinistra quindi col livello il rabocco eccetera eccetera viene compresso e viene mosso in nel sistema idraulico della vettura e va ad azionare le frenate ora se fossi capacissimo e ce l'ho fatta quindi un altro dieci punti in più franco mi deve dare per questa gestione cosa andiamo a vedere cosa succede che la vettura che in questo caso si muove da destra da sinistra verso destra deve essere frenata quindi noi applichiamo alle ruote una coppia frenante che si oppone al loro avanzamento questa coppia frenante scusate se ripeto ma è importante fino ad oggi fino a qualche anno fa era pura generazione di attrito tra una pinza quindi una pastiglia freno e un disco freno oggi questa coppia frenante con le vetture ibride che permettono la ricarica delle batterie durante la frenata è una somma di una coppia resistente del motore elettrico che diventa generatore perché comunque cioè non è che l'energia elettrica mi cade dal cielo c'è un lavoro che deve essere fatto per trasformare questa coppia in elettricità e quindi il mi genera un attrito e un attrito resistente comunque una forza resistente una coppia resistente e la coppia resistente che è generata sempre e comunque dall'attrito di cui abbiamo parlato prima benissimo quindi la vettura viene fermata da due entità l'entità disco freno come l'abbiamo conosciuta oggi mi genera calore l'entità energia elettrica che mi genera elettricità appunto e mi carica la batteria però cosa succede deve esserci un ente superiore che mi divide i lavori di queste due entità in maniera opportuna perché il veicolo si freni rallenti in base a quello che il pilota in quel momento mi sta chiedendo capite la la cosa importante quindi il pilota ha l'unica necessità di rallentare il veicolo come il veicolo viene rallentato tutto sommato al pilota non interessa ma cos'è che interessa che lui abbia il feeling la frenata e la gestione della stessa in base a quelle che sono le necessità di guida che ha in quel momento ecco che quindi il famoso buy while entra in gioco ovviamente è inutile nascondersi vi è dietro tutta una serie di messa a punto elettronica che gestisce le coppie elettriche ed elettroniche sempre per magia sperando che fino adesso sia riuscito a spiegare cosa c'è dietro la necessità di evoluzione ho provato a disegnare un sistema eccolo qua che prova a spiegarvi cosa succede oggi abbiamo quindi il sistema pompe freno che abbiamo visto all'inizio che io ho rappresentato molto semplicemente che mi sposta del liquido idraulico quindi il sistema di base pedaliera non cambia ma questo liquido idraulico va a delle unità di controllo che sono state studiate disegnate molto molto complesse e queste unità di controllo ricevono una pressione idraulica un movimento idraulico che lasciatemi dire è la richiesta di frenata del pilota quindi noi la vettura riceve come comando una pressione idraulica che è quanto il pilota ritiene necessario a frenare il veicolo in quel momento benissimo a questo punto l'unità di controllo generale dialogando con le centraline di controllo dei motori elettrici della parte elettrica con la parte di gestione frenata by wire by wire perché fondamentalmente il pilota non frena direttamente con la parte freno la parte freno è gestita all'unità di controllo idraulica e quindi a questo punto ecco che il sistema percepisce una richiesta di frenata e in base a anche quant'è la necessità di ricarica batteria quant'è la velocità quanto sono gli altri fattori al contorno che delle strategie legate a delle messe a punto hanno deciso essere l'ottimizzazione della frenata stabilisce che una parte di pressione idraulica della richiesta che arriva tramite questo canale viene mandata all'asse anteriore e viene mandata all'asse posteriore creando una coppia di frenata che noi otteniamo con del calore e che otteniamo con la parte disco freno ma analogamente l'unità di controllo generale veicolo in dialogo con l'unità di controllo elettronica del by wire mi genera delle coppie frenanti che mi trasformano elettricità siano esse sull'asse anteriore o allora abbia ovviamente il motore anteriore o all'asse anteriore e o all'asse anteriore questo è un sistema piuttosto complicato e sofisticato come possiamo immaginare perché dobbiamo fare queste operazioni a molto velocemente perché non possiamo avere un ritardo tra il momento in cui il pilota frena e il momento in cui la vettura rallenta b dobbiamo farlo in modo tale che il pilota abbia una sensazione sul pedale esattamente uguale a quella che lui aveva precedentemente con i sistemi puramente idraulici b dobbiamo avere la possibilità e di dare al pilota la possibilità di modulare tanto quanto faceva precedentemente capite che quindi questo lavoro di gestione elettronica e di un sistema idraulico e o elettrico molto sofisticati che sono velocissimili nell'adattarsi ed è qualcosa credetemi sperando di avervi passato fino a oggi concetti in maniera chiave capiamo tutti insieme che di un sofisticato incredibile e ad esempio quello che è anche sofisticato che ha richiesto molto lavoro di messa a punto credetemi è quello che noi vediamo spero in questi cilindretti che ho disegnato che si chiamano simulatori di pedale perché perché come potete ben capire a fronte di una pressione di ingresso nell'unità di controllo che quella richiesta dal pilota una sua percentuale viene mandata all'asse frenante ma ne rimane un'altra percentuale che non è che possiamo far sparire come il mago silva rimane lì e questa parte viene gestita nel simulatore di pedale pertanto la forza resistente che il pilota ritrova sul pedale rimane assolutamente la stessa cosa succede che quanto vi ho raccontato è relativamente forse semplice da spiegare ma vi è notevolmente complicazione in tutto questo ovviamente questo sistema disegnato prevede che possa essere trasformato o adattato utilizzato come puro idraulico qualora la centralina di controllo veicolo analizzando quello che succede sul motore elettrico anteriore sul motore elettrico posteriore sul sistema batteria percepisca un problema per cui dice attenzione non posso aiutarti nella frenata sistema idraulico in quanto ho un default o un problema da qualche parte tipo sull'asse anteriore il motore elettrico si è rotto il sistema di carica di batteria non funziona per cui occhio freni 100 per cento tu e quindi il sistema idraulico mi permette un dialogo pressoché diretto tra il pedale e il freno meccanico idraulico chiamiamo e quindi avrò il 100 per cento di utilizzo della frenata meccanica meccanica idraulica trito eccetera come possiamo ben comprendere questo sistema nell'analisi veicolo completa ed è questo il bello no perché fa capire come oggi la prolettazione di un veicolo richieda un'integrazione fra tutti i sistemi incredibile e permette di far sì che si comprenda molto bene come un sistema di questo tipo analizzato inserito in un progetto di vettura generale mi permette di aprire degli scenari scusate se ricado nell'aerodinamica nella dimensione dei montanti nella dimensione dei dischi freni perché perché quando io mediante dei sistemi di simulazione opportuni mediante dei dimensionamenti opportuni dei motori ho coscienza e conoscenza di tutto quello che succede capiamo tutti insieme che la trasformazione iniziale di cui accennavo tra energia cinetica in calore si riduce perché io parte di quella coppia frenante che era 100 per cento generata dall'attrito oggi ce l'ho generata da un lavoro elettrico quindi il calore è ridotto calore è ridotto cosa vuol dire o meno necessità di smaltire sappiamo che abbiamo parlato e ragionato negli anni ci sono stati tantissimi studi per chi era appassionato prima guarda la formula 1 so che si raccontava forme prese aria freni sono state dimensionate cestelli eccetera eccetera cosa succede che oggi la quantità di calore da smaltire ma anche da gestire come sappiamo magari per riscaldare le gomme eccetera eccetera cambia cambia nell'arco della gara cambia nell'arco del dell'evento stesso e quindi ho minori necessità di richieste di flusso d'aria per smaltire minore apertura di prese d'aria minore resistenza e tutto quello che ne segue questo deve essere studiato e attenzionato ma soprattutto ecco che è importante durante la gara anche il dialogo nel caso tra pilota e team e comunque il pilota diventa qualcuno che deve essere a conoscenza del sistema veicolo nella sua interezza perché ovviamente se la frenata assistita non c'è vi sono degli allarmi che lo allertano e dicono occhio stai frenando solo quei dischi freno e in un sistema veramente efficiente lui teoricamente non dovrebbe accorgersi anche se un po se non ha più la parte elettrica se ne accorge ma cosa succede che deve essere cosciente che in realtà usando tutto il rallentamento con il sistema idraulico genera più calore che non è in realtà possibile smaltire perché la vettura non è stata pensata per quello ecco che quindi dovrà gestire dovrà fare attenzione tutto quello che ne segue perdita di performance del veicolo va bene ma stiamo parlando di un sistema di non funzionamento perché quando il sistema funziona questo sistema break by wire mi permette dei vantaggi incredibili su tutto il sistema veicolo e non dimentichiamo che abbiamo anche un vantaggio meccanico perché cosa possiamo analizzare insieme a chi disegna l'impianto frenio che ci fornisce l'impianto freni che ragioniamo sull'impianto freni o minore sbaltimento termico minore attrito bene ho necessità di magari pinze più piccole posso avere dei dischi freno più piccoli più piccoli magari non in diametro magari meno spessi cosa vuol dire tutto questo vuol dire meno peso e noi sappiamo che meno peso sul lato ruota vuol dire minore maggiore gestione di quelli che sono i movimenti maggiore sensibilità su quello che lo smorzamento idraulico molle eccetera eccetera maggiore performance ecco che quindi mi piace condividere con voi e raccontarvi insieme come sia bello che all'interno della progettazione di un veicolo non abbiamo degli elementi ma quello che ricordo ed è importante nella progettazione del veicolo abbiamo il veicolo il veicolo è fatto dall'integrazione di tanti componenti e se vi è una visione completa di quello che è il veicolo di tutti i componenti ecco che l'integrazione tra di essi permette di esercitare al massimo la possibilità di ottimizzare il disegno sapendo sfruttare al 100% tutti quelli che sono i vantaggi che i nuovi sistemi ci danno perché se un break by wire all'interno della performance del veicolo mi può dare 100 nell'ottimizzazione così in realtà possiamo arrivare a 110 perché lo possiamo integrare meglio capendo a 360 gradi quelle che sono i vantaggi che mi possono dare ora franco non stai parlando non so se sei veramente tu se hai messo un cartonato mentre stai pensando ad altro perché ti sto annoiando o sei così cioè adesso spero di essere stato fino adesso chiaro perché ritengo che sia sia importante che conosciamo insieme questi sistemi di cui spesso si parla ma che magari non hanno sufficiente approfondimento per farci capire tutti insieme uno quanto stiano diventando più complicate queste macchine ora a belli tempi bla 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 passato è passato per definizione ragioniamo e godiamoci quello che ci viene dato dalla tecnologia oggi apprezziamo il lavoro di fornitore come brembo che ha fatto veramente non sto facendo marchette non anzitutto è importante dire questo ma mi ha affascinato molto questo sistema e loro hanno fatto molto bene e questo sistema è stato anche il sistema inizialmente sull'asse posteriore e oggi sono sull'asse posteriore che comunque abbiamo anche sulle formula 1 perché le formula 1 sappiamo che durante la frenata al costing rigenerano quindi quando sentiamo le telecroniche quando leggiamo parliamo di rigenerazione cos'è questo sistema non è che diventiamo giovani è che durante la frenata all'asse posteriore perché in quel caso sappiamo è solo sull'asse posteriore il motore elettrico diventa un generatore elettrico un grosso alternatore che mi aiuta a rallentare il veicolo e questa elettricità mi carica le batterie insieme agli altri sistemi di regenerazione che abbiamo nel turbo e quant'altro quindi l'energia cinetica diventa elettricità che poi simile a quello che c'è sulle vetture di serie e questo mi permette di avere poi quando il pilota me lo richiede tutta la potenza elettrica sommata alla potenza che il motore a combustione interno che mi dà e va ribadisco prima che ci siano dei fraintendimenti delle cose io parlo di vetture da competizione perché è vero che ci sono esempi di vetture di serie delle quali io so veramente poco e me ne vanto dove invece la frenata by wire è veramente by wire per cui c'è un segnale elettrico che va alle pinze che hanno dei motori elettrici passo passo che fanno avvicinare le pinze le pastiglie eccetera eccetera ma questo per mettere di dire è un altro film io quel poco che so lo so delle competizioni di vetture da competizione e faccio già fatica a fare questo ora io mi rendo conto che questa è stata forse una chiacchierata tra le più complicate perché fino oggi vi ho raccontato cose che ho fatto per 30 anni e oggi vi ho raccontato qualcosa che ho dovuto quasi non dico studiare ma mi è piaciuto approfondire capire di più per condividere con voi quello che ho imparato vi chiedo scusa del disegno molto elementare ma è stata la maniera secondo me più comoda che ho avuto per per spiegarvi come funzionava senza usare paroloni complicatissimi e degli schemi complicatissimi e soprattutto perché man mano che disegnavo capivo se avevo capito io perché è inutile studiare memoria dei concetti che non si hanno propri e cercare di passare dei dogmi ne abbiamo già abbastanza in giro eccoci qua e no io credo che sia una chiave estremamente importante e interessante nella comprensione delle prestazioni anche perché poi come giustamente hai accennato all'inizio ci sono argomenti e temi come le gomme e i freni che diventano soggetti solo quando non funzionano in maniera adeguata e riuscire invece a spiegare quanto siano importanti e in certe situazioni determinanti nella qualità delle prestazioni è giusto riconoscere un merito a un valore all'interno della macchina in questo caso del WEC per far capire quali sono le complicazioni di questi progetti sempre più evoluti io sono dell'idea che poi cercheremo di seguire anche quali potrebbero essere in un futuro gli sviluppi perché da idea nasce idea e non ci si ferma mai in questo campo verissimo anche perché mi permetto di dire l'evoluzione ma non è tanta evoluzione senza voler fare il corso dinamica veicolo ricordiamoci che abbiamo delle unità di controllo che come abbiamo visto mandano della pressione tramite dei motori a delle pinze noi abbiamo visto anni fa per chi segue la formula 1 da qualche anno e sistemi da qualche anno anche sulle vetture di serie la frenata è anche un fortissimo aiuto alla dinamica del veicolo quindi questa pressione idraulica può anche essere inviata alle ruote non solo su richiesta del pilota eh con un pedale movimento di pedale che si diavola centralina ma vi possono anche essere delle centraline elettroniche che in base all'angolo di imbartata alla velocità di più a destra che a sinistra possono aiutare nel discorso del davanti dietro il ripartitore di frenata classico eh utilizzato sono sistemi che non sono fantascienza eh perché sulle vetture eh di serie ci sono già però è importante secondo me ehm capire questo che la differenza tra le vetture di serie e le vetture da corsa dico la banalità dell'anno e la velocità e quindi cosa succede che quello che è affascinante in questi sistemi è la velocità di reazione perché anche sulle vetture di serie via velocità di reazione ma qua viene molto molto più veloce e eh dimezzare un tempo di reazione a quelle velocità decimi di secondo vuol dire avere delle capacità di calcolo delle potenze di calcolo dei sistemi idraulici riduzioni inerzie incredibili e a me affascina molto questa micro ricerca ottimizzazione della lunghezza dei tubi della 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 flessione della c'è c'è uno studio dietro incredibile per far sì che sia velocissima la velocità di reazione e che soprattutto il segnale mandato anche idraulico non venga disperso in dilattazioni deformazioni ma sia veramente direttamente mandato all'utente finale pastiglia freno cosa adesso sì utente adesso il pilota è diventato utente no utente è la pastiglia freno ecco no il pilota io l'ho sempre chiamato distanziale infatti se lo chiamo utente gli faccio far carriera va bene siamo arrivati in fondo a questa bellissima chiacchierata andrea grazie analizzeremo anche quelli che potranno essere eh gli sviluppi no nella dinamica del veicolo come dici tu e del movimento della macchina in pista per renderla più banale e eh amici grazie di essere arrivati in fondo cliccate la campanella iscrivetevi al canale perché a sorpresa arriveranno altre lezio magistralis del no condivisione di sapere le condivisione di sapere lezio magistralis diteci voi commentate e fateci sapere cosa ne pensate grazie di tutto grazie andrea alla prossima puntata ciao a tutti ciao buona giornata